Quando ho toccato la spilletta ho visto questo posto, un posto meraviglioso e ho sentito che tutto era possibile e poi è sparito. Va via! Voglio che mi porti nel posto che ho visto quando ho toccato questa. Dove l'hai presa? Lo so che sei stato là. Chi sei tu ragazzina? Ti hanno seguita fin qui? Chi? Sono Francis Walker, sta offrendo a rifugio a una fuggitiva. La lasci in nostra custodia. Ha un minuto per obbedire? Grazie. Non ringraziarmi ancora. Ma che cosa? Presto! Andiamo! Oh cavolo! Entra! Di fare una buona idea! Non hai ancora visto niente. Vieniti forte! Tu volevi vedere Tomorrowland. È davanti a te. No! Grazie per la visione!